Pasta fredda con ortaggi di stagione Una ricetta adatta al periodo invernale, pensata per esaltare i sapori di prodotti di stagione come zucchine, melanzane e peperoni. La pasta fredda con ortaggi di stagione è un primo piatto leggero, colorato e saporito, ideale per un pranzo o una cena in compagnia. Gli ingredienti necessari per la preparazione sono 400 g di pasta corta, penne, fusilli, due zucchine, una melanzana, un peperone, un spicchio d'aglio, 20 g di prezzemolo, un cucchiaio di capperi sotto sale, due cucchiai di olio extravergine d'oliva, sale QB. Inizia la preparazione della pasta fredda con ortaggi di stagione lavando accuratamente le verdure sotto acqua corrente, asciugale e tagliale a dadini. In una padella antiaderente scalda due cucchiai di olio extravergine d'oliva, unisci uno spicchio d'aglio e fai soffriggere per qualche minuto. Aggiungi le verdure e un pizzico di sale, copri con un coperchio e lascia cuocere a fuoco dolce per 10 minuti. Intanto, lessa la pasta al dente in abbondante acqua salata, scolala e mettila da parte. Una volta cotte le verdure, aggiungi i capperi sotto sale al sugo, mescola bene e lascia cuocere ancora un paio di minuti. Unisci la pasta alla padella, mescola bene per amalgamare gli ingredienti e spegni il fuoco. A questo punto, trasferisci la pasta fredda con ortaggi di stagione in una ciotola, aggiungi il prezzemolo tritato e lascia raffreddare. Per un gusto ancora più deciso, aggiungi ancora un filo di olio extravergine d'oliva. La tua pasta fredda con ortaggi di stagione è pronta per essere servita.